Ben ritrovati come state, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like qui sotto, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, numerosissimi mi raccomando. È previsto un nuovo contatto questa mattina tra il Milan e Enzo Raio, l'entourage di Ben Nasser, perché Milan vuole capire se da qui a venerdì arriverà questa offerta, o più che venerdì da qui a domani dopo domani, perché Milan poi dovrà avere il tempo anche per eventualmente sostituirlo. Offerta all'Arabia, continuano anche i contatti tra l'entourage di Ben Nasser e i club arabi, in particolare uno, e quindi c'è questo giallo un po' da risolvere con un ultimato che il Milan pone, l'entourage di Ben Nasser, entro 48 ore dentro o fuori, cioè o arriva questa offerta e va valutata, oppure Ben Nasser viene tolto dal mercato, è il caso che poi venga mentalizzato, si mentalizzi sul mondo Milan. Attenzione poi a Yassin Adli, con il Milan che vorrebbe monetizzare, la sensazione è che, boh, non lo so, difficilmente ce la farà, perché il Milan ha difficoltà a vendere. Si è interessata la Fiorentina, c'è il Marsiglia interessato, vediamo che cosa spunta, con il Milan che preferirebbe appunto cedere a titolo definitivo, anche perché se anche questo giocatore lo cede in prestito con diritto non è che ci fa bella figura, soprattutto poi non è detto che poi andrà a incassare neanche tra un anno. Per quanto riguarda le entrate, in questo momento il nome davvero caldo è quello di Silvano Vos, giocatore dell'Ajax di 19 anni, che però andrebbe inizialmente nel Milan futuro, per poi magari fare la spola con la prima squadra. Su Mano Cone c'è un raffreddamento, dovuto al fatto che Ben Nasser al momento non ha portato l'offerta che serve per farlo partire, e neanche un'offerta vera, se non abboccamenti. Vediamo che cosa succede, che cosa vi aspettate dal mercato del Milan, io personalmente poco o nulla, visto l'andazzo e la poca ambizione di questo club. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi, numerosissimi, ultimato comunque significativo, dovremo capire in poche ore che cosa accadrà su Ben Nasser e di conseguenza su un'entrata eventuale. Iscrivetevi numerosi, mi raccomando ci tengo, grazie, un abbraccio. Ciao a tutti, buona giornata e a dopo.